Io vorrei che tu e Lapo e io fossimo presi per incantamento e messi in un vasel che ad ogni vento per mare andasse al voler vostro e mio, sì che fortuna o d'altro temporio non ci potesse dare impedimento, anzi vivendo sempre in un talento di stare insieme crescesse il disio. E monna Vanna e monna Lagia poi, con quella che sul numero delle trenta, con noi ponesse il buon incantatore e qui vi ragionar sempre d'amore e ciascuna di lor fosse contenta, siccome credo che saremmo noi.